Ladies and gentlemen, all young people, this is show time! Allora ragazzi avete presente fantozzi quando sta nella doccia? Felicità e poi... E' uguale, è un po' così io sono stato, perché il primo tempo, l'espressione del primo tempo è questa L'espressione del primo tempo è... Perché? Allora, iniziamo dicendo che io sento dire Heinzaki ha azzeccato le sostituzioni No, non è che ha azzeccato le sostituzioni perché sei ultimo, eri ultimo nel girone al primo tempo Il parigi non serviva a niente e gli unici che potevano giocare per provare a cambiare un po' Erano quei due che sono entrati, Luis Alberto e Milinkovic e Savic E cosa è successo? Alla prima azione che loro sono entrati, forse ancora non si erano ben chiariti La disposizione su calci piazzati, Ponfla ci fanno il gol E' lì il delirio più negativo che c'è stava Perché comunque lì a quel punto il Celtic vince 2-0 Tu stai fuori dall'Europa League e a quel punto vuol dire che ti devi concentrare sul quarto posto Perché? Oppure te la devi sculare la Supercoppa Italiana o la classica Coppa Italia E invece ragazzi, sembra, sembra essere tornato il Sergente Il Sergente, sì signori, il Sergente perché gioca bene domenica, gol e assist Gioca fantastico oggi, entra Forse vi dico, forse ha la responsabilità del gol loro Però secondo me li sono sbagliati a scalare tutti, come vi stavo dicendo Fa prima il gol e poi fa l'assist fantastico al bacio per il nostro giro Cose negative Il primo tempo della Lazio, ragazzi, è una cosa obbrobriosa Obbrobriosa Cosa scandalosa ragazzi, una cosa scandalosa Al 32esimo al primo affondo dei Lazzari e poi non ho capito perché Lazzari impunta più nessuno Poi alla fine qualcosina un po' meglio Non capisco per quale motivo, sinceramente, anche se a volte manca di concentrazione E a volte fa le cavolate, però non è che non le fa nessun altro Nella nostra carissima difesa non capisco perché Bastos non gioca titolare Cioè, se abbiamo dovuto fare otto cambi, diciamo Vuol dire che Bastos non gioca titolare Quindi i titolari sono quelli del genere Vabbè, comunque, titolari non titolari Siamo riusciti a svoltare una partita E forse svoltare anche una qualificazione importante Una lotta per la qualificazione Non è che ci sono qualificati Lungi da me a dire queste cose Però, ragazzi, diciamo che la cosa negativa Spal-Ren è il primo tempo Perché sembravamo la Spal Ma la Spal è quella del primo tempo di Lazio-Spal Capito com'è? Cioè, proprio una cosa obbriosa Poi un po' di orgoglio E poi, vabbè, ragazzi, la differenza Anche se loro hanno due o tre ragazzetti Che spingono e non sono male Comunque, ragazzi, una vittoria Che viene dopo un'altra vittoria Che viene dopo una sconfitta Forse non meritatissima contro l'Inter Quindi, ragazzi, dai Una Lazio in leggera crescita Sì? No? Eh, dai, su Di solito, al contrario, ci succedeva Quest'anno è la prima volta che recuperiamo e vinciamo Dai, un po' di contentezza Gli auguri a Paoletto Paoletto è uno dei pochi che mi segue Manco mio madre, ho detto Manco mio madre, mi segue Comunque, ragazzi, iscrivetevi Anzi, allora Questa era per te, Paoletto Che avrà detto sicuramente è No, allora, tanti auguri a Paoletto Ragazzi, iscrivetevi al canale Vi voglio bene Like, se in sciolete metto uguale Fate come vi pare, anzi E ricordatevi una cosa Che noi vogliamo Gli altri strisciano molto